L'oroscopo del 13 maggio. Una giornata di opportunità e di crescita. Mentre la luna si adagia dolcemente nel segno del cancro, un'ondata di positività pervade l'inizio settimana. Cosa riserva il destino ai diversi segni zodiacali? Scopriamolo insieme. L'oroscopo del segno ariete. La giornata si tinge di ottimismo e di nuove opportunità. L'armonia regna sovrana nella sfera sentimentale, rendendo questa serata perfetta per trascorrere momenti di intimità con il partner. Evitate discussioni accese che potrebbero incrinare la serenità. I single, invece, potrebbero essere piacevolmente sorpresi da un incontro significativo. Il lavoro richiede pazienza, soprattutto se si attende una risposta importante. Non disperate, buone notizie potrebbero arrivare da un momento all'altro. In amore, ascolta i tuoi sentimenti per capire cosa desideri davvero. Questo è il momento ideale per migliorare la tua situazione lavorativa. Per quanto riguarda il benessere fisico, non ci sono particolari preoccupazioni all'orizzonte. Sarà una giornata tranquilla sotto questo aspetto. Se stai attraversando un periodo difficile, sia in ambito lavorativo che sentimentale, trova conforto nella tua famiglia, sempre pronta a sostenerti e a dimostrarti il loro affetto incondizionato. L'oroscopo del segno toro. Giove e Nettuno vi mettono a dura prova, instillando un pizzico di ansia in questa giornata. Non lasciatevi scoraggiare. Coraggio e determinazione vi aiuteranno a superare gli ostacoli. In amore, potreste sentirvi un po' malinconici e desiderosi di maggiori attenzioni. I single dovrebbero evitare di essere troppo esigenti e dare una chance a nuovi incontri. Siate vigili e pronti ad affrontare situazioni inaspettate, mantenendo un atteggiamento prudente per non dare un'impressione sbagliata. Sul lavoro, la creatività e l'intuizione saranno le vostre armi vincenti per risolvere problemi inaspettati. Collaborate con i colleghi e siate aperti a soluzioni innovative. In ambito sentimentale, se sei un uomo, non trascurare le attenzioni e la delicatezza nei confronti della tua partner. Concentrati sulla comunicazione e sul rafforzare il legame emotivo. Sul lavoro, è il momento di concretizzare le tue aspirazioni. La tua abilità nel comunicare e nel raggiungere accordi sarà un punto di forza, aiutandoti a eccellere. Sei noto per la tua forza fisica e resistenza allo stress, ma non esagerare. Recentemente potresti aver affrontato qualche problema in famiglia, ma ora è acqua passata. Ti senti nuovamente amato e supportato dai tuoi cari. L'oroscopo del segno gemelli. Una giornata all'insegna dell'energia e del dinamismo. Le vostre qualità brillano, permettendovi di liberarvi da impegni accumulati e di dedicarvi a ciò che vi appassiona. In amore, il desiderio di novità vi spinge verso cambiamenti entusiasmanti. Nonostante qualche ostacolo, soprattutto da parte di chi non condivide le vostre idee, riuscirete a mantenere alto l'umore e a godervi una serata romantica. I single, con la loro sensibilità acuta, sapranno indirizzare i propri sentimenti verso la persona giusta. Sul lavoro, vi trasformerete in una macchina da guerra inarrestabile, tenace e solida. I sentimenti sono dolci e frizzanti, caratterizzati da complicità ed emozioni condivise. Tuttavia, quando si parla di intimità, potrebbero esserci alcune resistenze da affrontare. Sul lavoro, potresti avere un'idea brillante da mettere in pratica. La tua forza fisica non è al massimo, quindi prenditi cura di te come un delicato fiore in una serra. La vita familiare procede serena e piacevole, contribuendo al tuo buon umore. L'oroscopo del segno cancro. L'inizio settimana si prospetta radioso, con la possibilità di realizzare aspirazioni a lungo attese. L'atmosfera positiva vi accompagnerà fin dal mattino, infondendovi entusiasmo. In amore, si aprono le porte a nuove esperienze e a scoperte affascinanti. Mantenete una mente aperta e lasciatevi guidare dalla crescita personale, rafforzando il legame con il partner. Per i single, un nuovo amore potrebbe sbocciare inaspettatamente, portando con sé sorprese e un'attrazione irresistibile. Accogliete con favore questi doni del destino. Sul lavoro, la vostra intuizione vi aiuterà a distinguere la verità, evitando di cadere in inganno. L'onestà e la spontaneità saranno fonte di ispirazione per i vostri colleghi. Per i single, gli amici sono tutto, ma se un'amicizia mostra segni di trasformazione in qualcosa di più, prenditi del tempo per riflettere e capire se sei pronto a cambiare la natura del vostro rapporto. La tua carriera sta ricevendo una spinta significativa verso l'espansione e il miglioramento. Il cielo è dalla tua parte, offrendoti opportunità fortunate. Cavalca quest'onda positiva e ne raccoglierai i benefici. Inizia una dieta equilibrata per recuperare energie, anche sul lavoro. L'affetto e il supporto della tua famiglia saranno la marcia in più di cui hai bisogno per affrontare le sfide che ti attendono. L'oroscopo del segno leone. La luna, pur rimanendo quasi stazionaria nel vostro settore, offre opportunità interessanti grazie al trigono con Saturno. Tuttavia, gestire male alcune situazioni potrebbe rivelarsi un ostacolo. In amore, se state affrontando disaccordi con il partner o cercando di risolvere problemi passati, è meglio essere cauti e aspettare un miglioramento delle condizioni astrali. I single, invece, troveranno la vera felicità verso sera, magari dopo una cena romantica. Sul fronte lavorativo, fate attenzione a ciò che dicono i colleghi. Qualcuno potrebbe diffondere false voci sul vostro conto. All'alba di una nuova giornata, l'amore vi vedrà trasformarvi in esseri profondamente intellettuali e dotati di grande eloquenza, mentre nel pomeriggio potreste avvertire un leggero sentimento di malinconia e una diminuzione della vostra solita energia. La vostra forza vitale e la determinazione a tutelare ciò che ritenete importante saranno le chiavi per dimostrare il vostro valore nel contesto lavorativo, superando ogni timidezza. Fisicamente, potreste sentirvi meno energici del solito, ma una passeggiata immersi nel verde potrà rivitalizzarvi. I legami affettivi si mostreranno solidi, pronti a offrirvi ascolto e sostegno, non dimenticate di apprezzarli. Ricordate, tuttavia, che non si può piacere a tutti. L'oroscopo del segno vergine. Le stelle vi consigliano di evitare pensieri stressanti e di dedicarvi un po' di più al relax. In amore, sarete in sintonia con voi stessi e concentrati sull'affermazione della vostra identità. Prendere l'iniziativa vi porterà gioia con il partner. I single farebbero bene a muovere i primi passi dopo aver ritrovato l'equilibrio interiore. Gli astri influenzano positivamente le emozioni generali, promettendo una maggiore serenità e vitalità per tutti voi. In ambito professionale, la giornata si prospetta positiva. Se siete in cerca di un nuovo impiego, arricchite il curriculum con le vostre esperienze recenti. Nel settore amoroso, è il momento di apprezzare ciò che avete costruito e di dare valore alle vostre emozioni. La giornata si concluderà con successi notevoli, grazie alla vostra costante attività. Coloro che sono in attesa di novità professionali da parte della direzione, restino sintonizzati. Ci sono prospettive favorevoli all'orizzonte. Per quanto riguarda la salute, dedicarsi allo sport sarà il miglior rimedio per liberarsi dello stress o di energia in eccesso. L'affetto familiare sarà una vera benedizione per alleviare qualsiasi altra forma di stress. L'oroscopo del segno bilancia. La giornata potrebbe partire a rilento, ma riprendersi nel tardo pomeriggio. Una persona interessata potrebbe chiedervi di chiarire le vostre intenzioni. In amore, il rapporto con il partner si baserà su fiducia e sincerità. Questo periodo è particolarmente favorevole al romanticismo, quindi godetevi momenti sereni con la persona amata. Le stelle vi invitano a focalizzarvi sull'armonia e la felicità interiore, raggiungibili solo liberando la mente da pensieri e preoccupazioni. I singoli possono contare su uno stimolo speciale dalla luna, nonostante le difficoltà astrali di mercoledì. Sul lavoro, organizzate al meglio le attività per portare avanti i progetti e raggiungere i vostri traguardi. Le stelle suggeriscono che tutto è possibile, dunque siate pronti ad accogliere le novità con flessibilità e positività. Per chi ha scelto la libera professione, fidatevi del vostro istinto, ignorando i consigli altrui, non rimarrete delusi. Prendendo in mano le redini del cambiamento con un approccio innovativo, vi sentirete più sicuri di voi stessi. Per i bilancia, le relazioni familiari saranno particolarmente serene, aggiungendo una nota di positività alla vostra giornata. Un amico caro potrebbe sorprendervi con un consiglio prezioso. L'oroscopo del segno scorpione. Vi attende una giornata perfetta sotto l'influsso della luna in cancro. In amore, preparatevi a vivere momenti emozionanti. Molti sentiranno l'esigenza di dare una svolta alla propria vita sentimentale, con successo garantito. Mantenete la calma anche nelle situazioni più complesse. Vi aspettano nuove emozioni, euforiche e delicate allo stesso tempo. Per i single, sta arrivando un momento d'oro. Se volete approfondire una relazione esistente, questo è il periodo ideale per un impegno sincero. Sul fronte lavorativo, l'umore è alle stelle. Il momento perfetto per avviare un nuovo progetto. Affrontate con spirito ludico e un pizzico di ironia le piccole tensioni con il partner, mostrando la vostra capacità di non lasciarvi sopraffare. Le stelle accentuano la vostra precisione e attenzione nel lavoro, permettendovi di concludere la giornata con un senso di soddisfazione per i compiti portati a termine. È importante, tuttavia, dedicare del tempo al relax all'aria aperta per mantenere il benessere fisico e mentale. Nulla è paragonabile al calore familiare per vivere momenti felici e sentirsi al top. L'oroscopo del segno sagittario. Questa giornata ti promette armonia, sia interiore che con le persone a tecare. Secondo l'oroscopo, in ambito sentimentale, le relazioni troveranno un equilibrio, anche quelle messe alla prova da recenti dissonanze. Apri il tuo cuore e la tua mente ad un rinnovamento profondo e preparati a guardare al futuro con ottimismo. Per le coppie, è importante non lasciarsi sopraffare dalla frustrazione. Evitate posizioni rigide che ostacolano il dialogo. Se sei single, preparati ad incontri significativi. Sul lavoro, valuta attentamente come affrontare le situazioni che non ti soddisfano più. Potresti ricevere nuove responsabilità, ma il successo è a portata di mano. L'ottima disposizione planetaria rende propizia questa giornata per attività commerciali e interazioni con il pubblico. Un settore dove le opportunità e le soddisfazioni dovrebbero abbondare. Benessere. Stranamente, la tensione vi dona vitalità, entusiasmo ed energia infinita. Il rischio, però, è lo sforzo eccessivo che potrebbe lasciarvi esausti alla fine della giornata. Il prezioso sostegno di amici e familiari più avanti sulla via dell'apprendimento vi aiuta a superare le vostre certezze, esplorando mondi nuovi e accogliendo la sensazione inaspettata di libertà. L'oroscopo del segno capricorno. Lunedì sarà una giornata ricca di novità entusiasmanti. Nei prossimi giorni, l'influenza positiva della luna sarà dalla tua parte, soddisfacendo le tue aspettative. Approfitta di questa opportunità offerta dalle stelle. In amore, fai affidamento sul tuo intuito. Il tuo segno zodiacale è noto per il suo pragmatismo e la sua intuizione, quindi lasciati guidare da queste qualità. Le stelle stimoleranno la tua curiosità e ti renderanno più ricettivo alle situazioni e alle persone intorno a te. Sarai in grado di offrire consigli preziosi a chi ne ha bisogno e dimostrare affetto al tuo partner. Per i single, Venere è favorevole e indica che è il momento di prendere decisioni importanti e responsabili. Sul lavoro, avrai l'opportunità di superare i tuoi rivali e intraprendere un percorso verso un futuro più gratificante. Per la salute, ricorda che miglioramenti richiedono sacrifici, e mantenere buone abitudini è fondamentale. Adesso, la vostra consapevolezza è maturata, trasformandoli in tesori preziosi. Con i figli, anche se a volte vi hanno procurato preoccupazione, le relazioni si rilassano, la comunicazione aumenta e si condividono momenti di gioia. L'oroscopo del segno acquario. Le distrazioni eccezionali saranno poche, ma ricorda che a volte la tua impulsività può portarti ad agire senza riflettere a sufficienza. In ambito sentimentale, le stelle ti porteranno intuizioni positive e la tua vitalità prevarrà sulla negatività. Vai avanti con fiducia, soprattutto nelle relazioni. Stabilisci le tue priorità e agisci con saggezza. Per i single, è il momento di dedicarsi all'esercizio fisico per mantenersi in forma e in salute. Mantenere la calma e trovare momenti di distrazione dai piccoli fastidi quotidiani sarà importante. Sul lavoro, riceverai buone notizie, soprattutto se lavori in team o a contatto con molte persone. Alcuni di voi potrebbero essere tentati di impegnarsi definitivamente senza sufficiente riflessione, con eccessiva fretta. Oggi sul lavoro siete estremamente abili e partite con decisione. Ricordatevi, però, di guardare indietro e intorno, offrendo supporto anche ai colleghi amici. Per la salute, badate sempre a voi stessi, evitando eccessi fisici e mentali. Se qualche compagno di viaggio si sente sopraffatto oggi, nulla è più ristoratore dell'abbraccio amorevole dei cari per riguadagnare energia. L'oroscopo del segno pesci. L'oroscopo di lunedì 13 maggio indica un periodo un po' piatto. È importante affidarsi al buonsenso per evitare pensieri confusi e azioni impulsive. Il dialogo potrebbe non essere il tuo punto di forza in questo momento, quindi affronta i malintesi con calma e rifletti prima di parlare. In amore, potrebbero esserci momenti di passione, sia per le coppie che per i single. La diplomazia sarà la tua arma migliore per risolvere conflitti e situazioni di stallo. Se sei single, evita decisioni affrettate o impegni a lungo termine. Potrebbe essere il momento di pensare al tuo futuro e fare scelte di conseguenza. Sul lavoro, potresti sentirti ansioso riguardo alle tue prestazioni, ma ricordati di prenderti del tempo per rilassarti in modo sano. Un sorprendente gioco d'azzardo sentimentale si profila. Impegnativo ma non necessariamente negativo. Se una storia raggiunge la fine, ogni persona può incontrare nuove persone e forse iniziare un nuovo capitolo. Avverte la prospettiva di un continuo avanzamento professionale. Salute Wise, recentemente siete stati un po' stanchi, ma presto migliorerete, curandovi adeguatamente. Potrebbe essere che ciò di cui avete davvero bisogno in questo momento sia affetto e sostegno sincero. Cercate conforto nella famiglia e troverete soddisfazione.